stupendo scusate bento sta pazzia qua bentornazio canasta di boyton ci siamo qui per la recensione della prima notte di ww st mania 30 atta cominciamo subito non c'era kick off anche se ci sono bastati i match da ammettere primo match yusuke difendono i titoli di smackdown tag team con shinsuke nakamura e rick books primo match di resta 38 e si parte male con un match che eronicamente e ha cominciato abbastanza fluido dinamico buone buoni scambi ma a causa infortunio a mio avviso serio e vero di rick book si è trasformato in un due contro uno finito quasi subito nakamura che ci prova ma deve soccombere all'inferiorità numerica e dico vero perché c'erano secondo me almeno 48 modi migliori per sostanzialmente far infortunare una persona durante un match farla sbagliare una mossa al suo primo match nel primo match di tutta resta 38 non mi sembra una buona idea quindi secondo questa cosa secondo me soprattutto visto dopo come un altro match con me e l'infortunio è reale match finito dagli usos match come su citare purtroppo un 5 e mezzo però 5 e mezzo perché comunque anche il kick out di nakamura allo splash degli usos comunque mi aveva fatto ben sperare secondo me c'erano make it up contro happy corbin buon match tra i due che senza tante pretese non nessuno si aspettava il miglior match della serata eseguono le loro migliori mosse con una discreta alchimia senza particolari frizzi e lazzi oltre a diciamo alla diving senton springboard di David McIntyre quella oltre alle corde da menzionare che per la prima volta nella storia qualcuno esce dal kick out della end of days non c'era mai riuscito nessuno ogni volta che baron cobbins esegue l'end of days o vince o sai un tag di match qualcuno interrompe lo schienamento ma di solito ogni volta che fa l'end of days anzi ogni volta che fa l'end of days in un 1 contro 1 abbiamo ancora ben vince vincitore ovvio e tentato omicidio nel post match dove David McIntyre ha tagliato le due corde cercando di decapitare anzi di dividere la metà come uno sfilatino al crudo Matt Cap Moss match vincito da David McIntyre ha cominciato a utilizzare sinceramente un suoi più si fa belli e si fa spediti terzo match i Mysterious contro The Meats e Logan Paul con il classico tag team match style nel main roster per WB che con inizio face dominio heal sul lottatore ritorno face e poi il finale con Logan Paul che si fa valere mostrando buona pulizia nelle mosse con un tra virgolette omaggio a Eddie Guerrero che non è stato molto gradito dal pubblico che l'ha fischiato e voleva entrare sul ring che spaccavi la faccia ci si poteva aspettare di più da questo match soprattutto visto l'attacco di The Meats a Logan Paul nel post match non so se non avrebbe avuto più senso che Logan Paul facesse lo schienamento finale con magari The Meats dopo l'attacco perché le luci della ribalta le deve avere lui bravi Mysterious a spettacolarizzare il match visto che dall'altra parte non c'era ovviamente la creme della creme della resta in mondiale ma vittoria che va glielo adesso vedremo nel raw post Arrester Mania come andava avanti questa fase secondo me si andrà a un The Meats contro Logan Paul Arrester Mania backlash ma questo lo vedremo match comunque vinto da The Meats e Logan Paul match cominciato a dare un altro 6 più bravo Logan Paul comunque che ha dimostrato che anche sui ring di wrestling qualcosa sa fare quarto match Becky Lynch che difende il titolo femminile di Raw contro Bianca Belair e qua il livello comincia ad alzarsi vertiginosamente gran bel match tra le due che pur con un inizio di soli roll up praticamente eccetto la Manhandle Slam di Becky Lynch arrivata quasi subito che comunque è molto ben inserita a livello di storyline hanno regalato un'ottima contesa con diversi falsi finali mosse e sequenze ben eseguite Bianca Belair con manovre spettacolari e di potenza ha regalato grande spettacolo all'interno del match Becky Lynch che domina ma non riesce mai a seguire mosse incisive faceva sempre delle mosse ma mai che dico minchia adesso fa con questa mossa potrebbe vincere per la prima volta nella storia della WWE una lottatrice vince i due titoli massimi di categoria overall Raw Women's Champions e SmackDown Women's Championship in due restremenie consecutive cos'è andato che l'anno scorso ha vinto il SmackDown Women's Champions da Sasha Banks quindi il match è venuto da Bianca Belair e ci ha cominciato a dare un 8 se Becky Lynch avesse fatto qualcosa di spettacolare di restremenia saremmo andati anche mezzo voto in più quinto match abbiamo setteronis contro l'avversario scelto da Vince McMahon che ovviamente sarebbe avvelato Cody Rhodes e questo è stato un restremenia match che rimarrà nella storia cioè non un restremenia match un restremenia match che ci ricorderemo anche tra 5, 6, 7, 8, 9 anni il ritorno di Cody Rhodes in WWE mosse spettacolari sequenze mosse a fiato diversi falsi finali ben riusciti voli pindarici bellissimo vedere Cody Rhodes omaggiare il suo padre nel finale auto percularsi imitando Stardust tentare la pedigree del suo nemico nella vita vera Triple H perché Triple H e Cody Rhodes si odiano nella vita vera ma soprattutto vincere contro Mike Ross Rhodes di fila secondo me questo match è mancato il kick out di Cody Rhodes a uno stomp di Rollins per rendere questo match una pietra miliara veramente della wrestling secondo me è mancato veramente quello perché a Wrestlemania mi aspetto i kick out quelli potenti match vinto da Cody Rhodes match cominciato a dare un'otto e mezzo qua veramente ci sarà una sola per me picconezza che è stata quella del mancato kick out però gran gran grandissimo match che è questo match che vuoi rivedere rivedere continuare a rivedere per tanti motivi quindi qua a otto e mezzo non glielo toghi nessuno e sarà difficile battere questo match nelle serate di vestia mia secondo me solo AJ Styles contro Edge ce la può fare a batterlo ma è molto difficile sesto match Charlotte Flair che difende il titolo SmackDown Women's contro Ronda Rousey bel match tra le due che nonostante pochissima secondo me pulizia nelle mosse e qualche botch soprattutto uno in particolare di Charlotte Flair il match è stato secondo me per mio avviso godibile con diversi farsi finale riusciti con una strategia ben attuata dalle due che puntavano sulla parte del corpo interessata e soprattutto è stato un match molto ruvido un po' statico nella parte centrale ma il finale fa sicuramente storcere il naso con la solita storia dell'arbitro colpito che però ha senso con la storyline con Charlotte Flair che ha ceduto come aveva ceduto anche alla punta dei SmackDown però l'arbitro non l'ha visto quindi secondo me si andrà a restamina backlist con un submission match altra vittoria che va a Charlotte Flair per Arest Armenia e altra sconfitta di Arest Armenia per Ronda Rousey che su tre match fatti ha vinto uno con Arest Armenia 34 ma fai da che sicuramente andrà avanti match vinto da Charlotte Flair match a cui mi sento di dare un personale sette e mezzo settimo tra virgolette match il Kevin Owens show con ospite a Stocco Steve Austin che senza indugio su Stocco Steve Gugio si è rivelato un match Kevin Owens ha sfidato per 3 mesi Stocco Steve Austin in un nuovo Sbarred match e dopo 19 anni Stocco Steve Austin fa un match match a cui non darò un voto è senza voto perché non mi sento di dare personalmente un voto a un match di Stocco Steve Austin dopo 19 anni chi se ne frega cioè è bellissimo non lo rivedremo mai più posso dire e questa è una cosa ragazzi attenzione quando ho pensato a questo match qua posso dire che ho visto un match di Stocco Steve Austin e comunque abbiamo visto che ha fatto il suo forse sì vedere il suo elbow così e vedere i pugni sarebbe stato bello anche se l'ha fatto sul tavolo dei commentatori ma ci siamo capiti però chi se ne frega Stocco Steve Austin a Dallas dopo 19 anni contro Stocco Steve contro Kevin Owens Stunner contro Stunner non mi interessa match vinto da Stocco Steve Austin in cui non diamo un voto ma questa questa cosa qua è mezzo voto in più al PPV perché comunque è stato veramente pazzesco è una cosa che ricordatevi bene non rivedremo mai più perché Stocco Steve Austin è a 57 anni e quest'anno ne fa 58 è stato posticipato il mio day contro Shimus Eri Jonathan che ripeto secondo me non mi è piaciuto per niente come ha gestito la WB il kickoff il kickoff è durato due ore hanno parlato due ore di match di questa sera si deve dire resta in mania notte 1 che notte 2 e sinceramente magari mettere Andrade Giant memoria battle royale nel kickoff e magari mettere New Day contro Shimbus e Savvy Jorland nel kickoff della sera 1 avrebbe avuto molto più senso spero che New Day contro Shimbus e Savvy Jorland venga messo nel kickoff sinceramente perché non me lo vogliono i 4 produttori con molti ma non frega niente a nessuno di questo match qua quindi vedremo questo match qua invece che notte 1 lo vedremo nella notte 2 bella la prima notte una notte che ci ricorderemo 7 a ogni secondo qua di Rolls è il match da battere cambi di titolo bei match resta media moment c'erano stati diversi il mio volto per la prima notte di resta media è un bell e sonoro 7 e mezzo peccato per la prima parte perché nella seconda parte abbiamo avuto un 8 un 8 e mezzo un 7 e mezzo e il ritorno di stoncosti vostri nell'ottava nella prima parte abbiamo avuto un 6 più un 5 e mezzo un 6 più se avessero alzato un attimo il tiro e almeno ogni uno degli altri 3 match avremmo avuto una una resta media che andava già bene con la prima notte abbiamo già finito volevo essere veloce scrivete nei commenti cosa ne pensate di questa prima notte di resta media il match che vi è piaciuto di più anche se credo che ce ne sia uno un momento che vi è piaciuto di più poi c'è un facebook profilo instagram iscrivetevi al canale iscrivetevi anche se volete i pronostici per la notte 2 di stanotte ci vediamo nella prossima mutata con i saldi boss che faranno parte della terza notte di resta media 3 a 1 di litro ciao ciao ciao